Ora è 9.30, alla Scuola dell'Infanzia San Giovanni Evangelista di Verona va in scena la festa dei nonni. Qui, nel quartiere delle Golosine della città scaligera, come in tante altre scuole della nostra Italia, il 2 ottobre è dedicato a loro, agli angeli dei bambini, ai sostegni di tante giovani famiglie che senza loro, soprattutto oggi, sarebbero in seria difficoltà. Cosa vuol dire essere nonni oggi? Ma è una cosa importantissima, guarda, per me è tanto, è tanto bello. I nonni è una presenza molto importante. Veniamo a prenderli e li teniamo fin 8-8.30 alla sera. Da Santa Maria di Zevio stamattina qua perché non potevate mancare, no? Beh, scusa, non è impossibile mancare un appuntamento così importante. Festa dei nonni, il coraggio anche di proporla, no? Assolutamente sì, è diventata una tradizione qui da noi, quindi non la possiamo perdere. È una cosa che, come avete visto fuori, poi i nonni sentono tantissimo festeggiare i loro bimbi. Qui poi diventano i nonni che festeggiano i bimbi perché c'è la festa, ci saranno i brindisi, ci saranno i rinfreschi, il buffet, eccetera, ma la festa che facciamo ai nonni diventano poi i nonni che festeggiano i bimbi ed è una cosa meravigliosa, direi. Per tanti di noi, per tante delle nostre famiglie, la figura del nonno è punto di riferimento indispensabile. Sono molto presenti ed influenti, rivestono ruoli di babysitter, da factotum, accompagnatori, ma soprattutto hanno il valore aggiunto di regalare affetto, calore, qualche piccolo vizio e tante coccole ai nostri bambini. Soggetto importante perché voi lo toccate con mano, i nonni spesso e volentieri sono un supporto importante per tante famiglie giovani. Assolutamente sì, sono un supporto perché aiutano proprio la gestione familiare perché ormai le famiglie sono composte dai genitori che lavorano entrambi, quindi comunque è un aiuto avere appunto un supporto così affidabile come possono essere i nonni e come solo loro sanno essere tante volte. La direttrice che ricordo ha dei nonni? Io ho una nonna che ha 91 anni, che saluto, le voglio tanto bene, i miei nonni sono sempre stati tanto dolci, tanto carini con me, è un bellissimo ricordo come penso che tutti i bambini possano avere dei loro nonni. Scusate.